Come faccio i compassi d'oro? Mi basta questo. Ogni volta che penso a una nuova lampada non penso mai a una nuova lampada, penso a una storia da raccontare. Non penso mai alla luce solo per illuminare, o meglio per illuminare in senso fisico. Per me la luce è anche un'occasione per illuminare l'anima tutto sommato. Io non so se poi questa cosa venga vista in modo filosofico. Io non ho un'idea molto intellettuale del mio lavoro. Però credo che la luce sia un'occasione per raccontare una storia, per costruire delle metafore, per mettere in piedi dei palinsesti che sono poi quelli che costruiscono il teatro della vita delle persone. Quindi per me la luce è questa. La luce migliore per me è quella che tutto sommato permette alle persone di essere vicine, di sentirsi vicini. In questo senso, ad esempio, anche le ultime cose che ho presentato sono lampade pensate per far sentire in comunione le persone. La luce sul tavolo, ad esempio, è una delle luci che io adoro perché è la luce che permette di far sentire le persone uniche al mondo. Io credo che in particolare la luce abbia una componente antropologica profonda. Non dimentichiamo che la luce cosiddetta artificiale è una cosa che esiste da pochi anni. Quindi su questo tema si potrebbe lavorare molto, anche in termini di progetto. La luce naturale e la luce artificiale sono due grandi temi. Io credo molto nel fatto che i manufatti che noi pensiamo e realizziamo comunque in qualche modo influenzano la vita delle persone, in particolarmente la luce, perché la luce è quella che ha prolungato la vita delle persone. Alla sera, ad esempio, si fanno attività che una volta non si facevano. Sembra banale questa cosa, ma dal fuoco ai diodi luminosi è passata tanta strada. Adesso siamo, tra l'altro, in mezzo totalmente immersi in una rivoluzione tecnologica, perché l'arrivo dei diodi luminosi ha permesso di pensare e di inventare delle soluzioni luminose che soltanto qualche anno fa, 4-5 anni fa, erano impensabili. Sunset è una macchina che permette di sintonizzarsi a piacimento sulle frequenze del tramonto. E quindi è un oggetto da collezione, un oggetto emozionale, esperenziale. Insomma, è una cosa che uno mette in casa per evocare, simulare, replicare le sfumature della luce che si verificano durante il tramonto. Oppure simbiosi è un lavoro un po' ironico, ma neanche tanto, cioè sulla possibilità di illuminare un certo tipo di diodi in corrente costante. Quindi un approccio ingegneristico, ma con un atteggiamento umanistico. Una parte dei diodi in corrente costante possono essere alimentati con dei cavi elettrici molto sottili. Questo mi ha permesso di fare una lampada aggregabile e quindi configurabile a piacimento nello spazio, molto leggera, quasi invisibile, dove i corpi illuminanti poi vengono collegati da un cavo anche quello molto sottile, rosso, che diventa il fil rouge del progetto e anche l'elemento di differenziazione e di caratterizzazione della lampada. È piaciuta moltissimo questa cosa. Simbiosi perché il destino di una lampada dipende dal destino dell'altra. È un modo per dire diversamente che abbiamo collegato in serie i diodi.